Questa mattina non è suonata la campanella per il rientro tra i banchi di scuola per gli alunni degli istituti scolastici di Caggiano, Teggiano e Montesano sulla Marcellana. La decisione di posticipare l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado è stata presa dai sindaci dei tre comuni del Tanagro e Vallo di Diano per le previsioni che parlano di ulteriori precipitazioni nevose previste sul territorio. Infatti il bollettino previsionale regionale annuncia che sono previste precipitazioni nevose nella zona interna. Una decisione che torna a salvaguardare l'incolumità pubblica dei più piccoli.